Raga, buon anno a tutti, buon anno a tutti, buon anno a tutti, sono un pazzo a fare sto video a quest'ora, cioè si posso gridare, quindi buon anno a tutti, scusate se grido, vi ho stannato le orecchie, lo so, però raga me sento vivo, me sento vivo, me sento vivo, me sento vivo, me giuro, me giuro, me sento vivo, me sento vivo, ho bevuto quasi un bicchiere di champagne, quindi me sento mezzo drogato e mezzo vivo, però raga sono veramente, mi sento vivo, 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 lo so bene se voi mi giudicherete, ma tu sei uno scema a fare così, lo so, lo so cacchio, però mi sento vivo, buon anno a tutti, Viva il 2021 e vaffammare al 2020, ragazzi, domani sui commenti, hashtag, viva il 2021, non ne potevo più del 2020, veramente, e ciao a tutti, a tutti, vi auguro un buon anno a tutti, e niente, domani farò anche un video, dove veramente, vediamo che quest'anno sia l'anno, un anno migliore rispetto al 2020, e niente, domani ci vediamo con un prossimo video, ciao!